Mentre scendo per le mie amate Viottole vi volevo mostrare la discesa dell'umanità che era partita dal baratto, la forma più equa di scambio, certo scomoda perché sono prodotti magari di peribili, però la forma che non permetteva un accumulo sostanziale di ricchezze oltre un certo limite e poi si è scesi giù, si è scesi giù. E questa è la storia che vi racconterò in questa importante puntata, partiamo però da una sintesi di un paio di minuti e poi andremo nel dettaglio, parleremo anche proprio di come è nata la moneta per i più curiosi. Non sapete qual è il più importante caposaldo che permette una società gerarchica che quindi abbia un capo che concentra le ricchezze e poi una elite e poi un vastissimo popolo schiavizzato e sottomesso? E' la moneta, il denaro. Questo denaro ha una storia, una storia molto interessante che io vi vorrei raccontare partendo dalle origini ovviamente, ma la cosa più interessante secondo me è che si è partiti dal baratto, che era il modo più equo di dividere e di dare ricchezza alle cose e però era scomodo e per comodità si è finiti ad accentrare la ricchezza con il denaro che prima era però sottoposto all'oro, va bene? Poi dopo comunque c'era un valore intrinseco nella moneta, questo valore intrinseco piano piano è stato eliminato finché negli ultimi tempi è stato completamente svincolato. E il risultato qual è? Il risultato è che questo ha permesso ancora di più di concentrare la ricchezza nelle mani di pochi e quindi nasce la moneta fiat, la moneta che non ha nessun collegamento con il valore di un oggetto e che può essere creata all'infinito, ovviamente a comodo di alcuni e a discapito di altri. Per alcuni è stata una rendita che permetteva accumulo infinito senza fare niente e per altri è diventata la schiavitù per arrivare a poter vivere, per arrivare a fine mese. Questa è la storia della moneta e questa è la storia della vostra schiavitù. Bene, dopo questa presentazione un po' enfatizzata torniamo istituzionali e andiamo a capire come è nata la moneta e parliamo però prima bene del discorso del baratto perché vi ho detto il baratto era un sistema molto naturale di scambio di oggetti, ovviamente chi aveva una cosa chi ne aveva un'altra il risultato era trovare un accordo e quindi fare un baratto. Ci sono fin da subito imposti dei prodotti molto desiderati nel baratto come potevano essere ad esempio delle pietre non tanto preziose ma utili come quelle per fare le frecce. Questo è importantissimo perché c'erano ad esempio delle particolari ossidiane che potevano essere molto utili. E quindi questo già era importante perché non da tutte le parti c'erano e quindi se avevi un'ossidiana anche da lavorare la potevi scambiare con qualcosa da mangiare. Quindi da lì in poi gli uomini primitivi intelligenti e nemmeno tanto primitivi sinceramente e si trattava di 12-13 mila anni fa magari a quelle poi esistevano anche altre civiltà di cui non sappiamo nulla. Però noi andiamo per quello che sappiamo, quindi verso la zona dell'Anatolia si iniziò a usare l'ossidiana sostanzialmente come se fosse una moneta. E quindi già 12.500 anni fa era sostanzialmente utilizzata come merce di valore perché non era preziosa come l'oro ma era utile quindi serviva per fare gli strumenti fondamentali poi per cacciare. E quindi prima dimensione di agricoltura questa era sostanzialmente la prima forma di oro anche se non era oro e in cambio magari venivano date, potevano essere scambiate dell'ossidiana con delle pelli, con degli animali cacciati. E ovviamente questo permetteva a alcune persone che non avevano animali da cacciare ma erano vicini a una zona dove si cavava l'ossidiana di mangiare senza problemi. Quindi già c'era una civiltà e c'era una struttura. Poi siamo andati avanti oppure come dico io discesi perché poi si è inventata l'agricoltura. L'agricoltura è stata un'invenzione fondamentale per la civiltà, non importa che ve lo dica io. E quindi si iniziò a usare come moneta il grano. Il grano che si deperiva però se non era ben conservato però era considerato una merce di valore e quindi poteva essere usato come moneta. Come notate tutte queste monete, diciamo che non sono monete, sono soltanto mezzi di baratto però già avevano un valore da moneta perché erano considerati oggetti preziosi da scambiare. La moneta ha il vantaggio di essere anche piccola e quindi ben trasportabile. Quindi certamente era più vicina all'idea della moneta l'ossidiana, del grano che magari era voluminoso. Avanti così poi il sale è un'altra cosa che magari si trovava in grande abbondanza in alcune zone e scarseggiava in altre. Quindi il sale diventa il salario. Pensate voi al salario perché probabilmente in zone dove era raro e prezioso veniva dato proprio come stipendio alla fine del giorno. Non si pagava una volta al mese come ora, si pagava di solito alla fine della giornata come anche nelle civiltà più recenti come nelle parabole evangeliche si pagava alla fine della giornata. E già ai tempi di Gesù c'era il denaro in moneta. Come nasce il denaro in moneta? Il denaro in moneta nasce con il recreso dalle nostre parti, ma in realtà già esisteva in Cina, in India, civiltà che si erano sviluppate prima. E dalle nostre parti, diciamo, le nostre latitudini, il recreso, anzi le nostre longitudini forse bisognerebbe dire, il recreso era un... viveva sostanzialmente nella zona della Lidia, quindi in Turchia, ecco per farvi capire un attimo, dicono me di oriente, Turchia, e questo recreso è stato il primo a avere l'idea di fare dei pezzi di metallo, inizialmente di oro e di argento, con la sua, diciamo, con il fatto che veniva messo il suo nome sostanzialmente. E in modo, questa era la prima vera moneta, perché c'era il metallo prezioso e c'era il suo nome. E quindi in questa maniera c'era la firma del valore, non solo del metallo, perché il metallo fosse buono, perché non facilmente si poteva capire, era esposto a frodi, poteva essere un oro falso, poteva essere pirite, pensate. Non so se all'epoca l'avevano, però si poteva scambiare e, insomma, la firma del re valeva come garanzia. E questo era già sostanzialmente una versione definitiva del denaro. Però, come sapete, poi nei secoli si è perso il discorso di fare monete di oro, perché faceva comodo diversamente. Questo è il problema. Dunque, le monete sono rimaste per tanto tempo abbastanza preziose, finché poi non si è iniziato a stampare monete in, sostanzialmente, in metalli meno preziosi. Mentre facciamo un piccolo escluso sulle civiltà precolombiane, sono molto importanti, e che su questo fronte erano considerate meno sviluppate. Tra l'altro da quelle parti l'oro aveva un valore più religioso, e quindi non poteva essere usato per gli scambi economici con moneta, e quindi l'asse è mantenuto più il baratto. La moneta è stata una cosa più rara, e anche nelle civiltà molto orientali, come il Giappone, che erano isolate, il Giappone è un'isola per definizione, il denaro è arrivato un pochettino più tardi. Però c'è stato, e quindi c'è arrivato, sostanzialmente, sicuramente prima del Medioevo Giapponese. E poi quello è successo che a un certo punto hanno iniziato a fare i furbi, diciamo, quelli che erano, che dominavano la monetazione, cioè quelli che stampavano la moneta. Hanno detto, perché noi dobbiamo dare il valore in mano al cittadino? Quando c'è la firma, l'affigie del re? Questa è l'idea. E hanno detto, allora noi teniamoci per noi l'oro, quindi una moneta d'oro del re poteva essere usata per ordinare la costruzione di altre monete, di rame, insomma di metalli meno preziosi, metalli che costavano poco, sostanzialmente rame e bronzo possiamo dire. Ecco, monete con metalli meno preziosi, dove c'era comunque l'affigie e la garanzia di chi comandava, del re e dell'imperatore, in questa maniera si sono avute le monete romane, le monete dell'antichità, insomma, più conosciuta, non sempre erano di oro, zecchino. E questa è una cosa che è evidente, insomma, per chi ha potuto vedere queste monete antiche. E quindi questa è già la prima furbata del potere verso il cittadino, non dargli in mano più il valore, ma metterlo, tenerlo per sé, e fare una specie di avatar del denaro, che però era garantito da quell'oro che c'era presente nei forzieri del re. E questo garantiva la scarsità della moneta e quindi il suo valore, altrimenti sarebbe inflazionato. Non si poteva fare moneta se non su ordine del re. Poi questo ancoraggio, come sapete, nei tempi recenti si è perso. Ma i primi che hanno perso l'ancoraggio probabilmente sono stati i cinesi, che hanno iniziato a inventare la banconota. Avendo loro la possibilità di inventare, di avere la carta, quando Marco Polo arriva, già esisteva da secoli, quando Marco Polo arriva a visitare la Cina e rimane per tanti anni, inizia a capire che c'era quest'idea di scambiarsi un foglio di carta e questa era, valeva come moneta, aveva un valore intrinseco nettamente superiore al foglio di carta. Ma anche in Cina, tutto sommato, era collegato abbastanza al valore intrinseco delle riserve che c'erano. Quindi non era ancora svincolata. Lo svincolo della moneta è molto più recente e risale sostanzialmente agli ultimi 70-80 anni. Ma di questo ne parleremo nella prossima puntata. Come nella prossima puntata è importantissimo, parleremo del Medioevo dei primi banchieri, del Medioevo Toscano, di tutto ciò che è avvenuto, diciamo, dal Rinascimento in poi, dove il denaro ha avuto l'esplosione con le banche, pensate un po', e poi nella prossima puntata arriveremo, se ci riusciamo poi, fino al denaro fiat. E da lì in poi faremo una terza puntata, probabilmente, dove parleremo dal denaro fiat alle criptovalute. Quindi saranno tre puntate, va bene? E intanto vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale per queste interessanti puntate. E sapete, parlo molto di altre cose, quindi andatevi a vedere anche gli altri argomenti che vorrebbero interessarvi sul canale Chioccio e la Rimita su YouTube. Arrivederci.